ciao a tutti e tutti sono simona di sciullo studentessa della sesta edizione del master sema ho scelto questo master perché volevo ampliare il mio precedente percorso professionale e sperimentare nuovi ambiti questi sei mesi di corso formativo sono stati molto utili sono stati molto intensi lo studio ma sono state anche molto entusiasmanti e coinvolgenti abbiamo incontrato dei docenti molto professionali grazie agli ospiti di eccezione che abbiamo avuto ci hanno fatto scoprire il bellissimo mondo dell'editoria le tantissime figure professionali che ci lavorano adesso sono nella mia fase finale del master devo iniziare il tirocinio e lo farò presso la casa editrice eliot che sono sicura che porterà anche a strettanti momenti utili anche per la futura vita professionale e quindi grazie al master sema e in bocca al lupo